Vietata la vendita allo scoperto in Italia e Spagna, non solo anche in Sud Corea, ma cos'è la vendita allo scoperto? Salve a tutti, Marco Casario qui, e ho visto che me l'hanno chiesto un paio di persone sul canale, così ho pensato di fare un video veloce, solo per farvi un update, su che cosa vuol dire vendere allo scoperto. Vendere allo scoperto, ragazzi, innanzitutto in inglese lo trovate come short selling, e vuol dire vendere qualcosa che non si possiede. Sapete che voi le azioni, anche sul mercato del Forex, in realtà con i tassi di cambio potete venderli o comprarli. Nel momento in cui acquistate, per esempio, un'azione, voi guadagnate nel momento in cui quell'azione accrescerà il suo valore, no? Quindi comprate a 10 euro e l'azione sale a 11 euro e avete guadagnato un euro ad azione. Bene, la vendita allo scoperto, invece, vuol dire vendere un'azione. Quindi, invece che fare acquista, fare vendita. Molti, la stragrande maggioranza dei broker, vi permette di fare questa operazione. Potreste domandarmi, Marco, ma come faccio a vendere qualcosa che non è nel mio portafoglio, qualcosa che non possiedo? Bene, lo potete fare perché ve lo permette di fare il broker. Infatti, quando voi vendete, quello che state facendo, in realtà, è utilizzare l'azione che il broker possiede, ve la semplifico estremamente, ragazzi, l'azione che il broker possiede e che vi presta e per questo vi dovete pagare una fee. Quindi, l'azione voi non la possedete, ma la possiede il broker, che vi permette di fare l'operazione di vendita, ma dovete riconoscergli una fee. Quindi, la prima cosa è che vendere azioni, per esempio, ha un costo di commissione maggiore. Seconda questione, per poter fare short selling, quindi vendita allo scoperto, dovete avere un conto di tipo margin, un margin account, perché vi verrà richiesto dal broker stesso, ovviamente, un margine per mantenere quella operazione aperta. Quindi, quando voi vendete, in realtà, immaginate di vendere un'azione che attualmente sul mercato sta a 10 euro, in realtà non dovete possedere sul capitale solo 10 euro, perché sono 10 euro più il margine che vi viene richiesto dal broker. E quindi, vuol dire che vi bloccate una parte del capitale più ampio. Immaginate, dico un numero, immaginate 20 dollari, quindi voi 20 euro. Voi, per vendere 10 euro ad azione, avete bloccati 20 euro sul vostro capitale. Questo perché? Perché è molto più rischiosa la vendita allo scoperto. E nel momento in cui, tra l'altro, immaginate che la vostra azione, invece di scendere, ed è l'unico modo per voi di guadagnare, invece di scendere sale, vi viene contro. Bene, il rischio è che potreste andare, proprio per colpa del margine che vi è richiesto, il margine di mantenimento, potreste andare in margin call. Che cos'è la margin call? La margin call è la chiamata che il broker fa, perché il vostro conto sta andando in una situazione di rischio e non vuole che vi bruciate il conto, non perché è buono e tiene ai vostri interessi, no, perché se è andato in negativo, il rischio è che lui ci deve mettere quei soldi. Quindi vi chiude l'operazione, se andate in margin call, e anche se dopo l'operazione il prezzo torna al valore iniziale, addirittura guadagnate, a lui non interessa, perché dove sta, sta, ve la chiude fondamentalmente. Quindi queste sono le cose a cui dovete fare attenzione. Perché in questo momento stanno vietando la vendita allo scoperto in alcuni paesi e si dice che potrebbe essere intelligente farlo anche negli Stati Uniti? Perché ragazzi, attualmente gli short seller stanno guadagnando tantissimo da questa situazione attraverso la vendita del sottostante, ma anche attraverso le opzioni. Il problema è che se continuano a far questo il mercato non si riprende mai. Quindi vietando lo short selling, ovvero la vendita allo scoperto, in Italia l'hanno fatto già su tante azioni, su aziende come Telecom Italia, su aziende come Banca Mediolanum, eccetera, qui potete vedere nella tabella una lista di queste aziende, vietando questo, non permettono al mercato di scendere ulteriormente, perché non danno la possibilità ai trader, grandi e piccoli che essi siano, di poter profittare dal ribasso. E quindi potrebbero andare ad interrompere un effetto domino, che sicuramente adesso sui mercati c'è, perché, ripeto, c'è grande speculazione al ribasso, e questa speculazione al ribasso non fa altro che andare in panico ancora di più i mercati, ovvero gli investitori, gli hedge fund, che continuano a chiudere posizioni, e magari per guadagnare e coprirsi andare in vendita. Quindi potrebbe essere, diciamo, una mossa intelligente, almeno per, in questo momento, stoppare questo effetto domino al ribasso che si è verificato sui mercati. Staremo a vedere se la applicheranno e la stenderanno anche ad altri paesi. Per ora il Sud Corea, il South Corea, ha dato un ban di sei mesi, se non sbaglio. In Italia la data ancora non c'è, è da destinarsi, ha aggiunto la Spagna. Staremo a vedere se seguiranno altri paesi, soprattutto gli Stati Uniti. Ragazzi, fatemi sapere se è stata chiara questa spiegazione, lasciatemi qui sotto un commento, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, soprattutto in questo momento di grande panico sui mercati. Io cerco di stare lì e giorno dopo giorno, più volte al giorno, di darvi informazioni per cercare di togliere un po' l'aspetto dall'equazione del trading e degli investimenti, l'aspetto emotivo. Spero di riuscire a farlo. Ci vediamo prestissimo, un like se il video vi è piaciuto, buon trading a tutti, ciao!